In Italia si utilizzano troppi antibiotici per i bambini, sicuramente più di Inghilterra, Germania e Belgio. Uno studio dell'Unione Europea ha evidenziato come in particolare nel nostro paese il consumo di antibiotici arrivi a circa il 38%, posizionandoci al penultimo posto, dopo Portogallo 28,5% e Spagna 37,7%. Maglianera la Grecia con un utilizzo che raggiunge il 40%. Gli esperti sottolineano l'importanza dell'utilizzo corretto degli antibiotici. È molto importante, infatti, che siano somministrati solo quando li prescrive il pediatra, dopo aver fatto un'attenta diagnosi della patologia presentata dal bambino.